Ciao, ti sei mai chiesto se esiste un sistema per ottimizzare al massimo le tue sessioni di studio? Resta con me perché fra 7 secondi ti farò vedere un'app che risolverà questo problema. Ciao, sono Rogero Pazzaglia, fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E se non hai ancora cliccato sul bottone iscriviti al canale YouTube o metti like alla pagina Facebook sotto a questo video, sei ancora in tempo per farlo. Per cui mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella di YouTube e metti like sulla pagina in modo da essere sempre avvisato quando pubblico nuovi contenuti. Oggi voglio farti vedere un sistema per ottimizzare al massimo lo studio di quelle routine ripetitive come per esempio i workout. Prima ti faccio vedere come funziona e poi te lo spiego. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Attenzione Colpi singoli Mi sto allenando Guarda cosa succede adesso 1, 2, 3, 4 Ok, ho cambiato esercizio dopo 30 secondi Ok, ora sono sull'1, 1 di sinistra Attenzione Guarda cosa succede adesso Sentirai un suono che mi avverte che i 30 secondi stanno per scadere Eccolo Conto 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 E ho cambiato esercizio per altri 30 secondi Ok, quindi sono 2, 2 invertito Una sorta di stick control Ok Attenzione 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Giro 4 finale Non c'è qualcuno nascosto a parlare Attenzione Ok Arriva l'avvertimento 1, 2, 1, 2, 3, 4 Stop Ora ti spiego che cosa è successo Ho preso un esercizio molto semplice come lo stick control Che è un esercizio basato sulle ripetizioni Quindi tutti i tipi di studi che tu farai basati sulle ripetizioni Possono essere fatti in questo modo Con questa applicazione che si chiama Boxing Timer Io posso decidere nelle impostazioni Quanti giri fare, quanti round È un'applicazione per pugili in pratica Per l'allenamento dei pugili E quindi se lo stick control è formato da 20 esercizi Io farò 20 giri Ok Poi posso determinare quanto tempo dura ogni giro Quello che prima avevo fatto Era che durava 30 secondi ogni round Ogni giro Quindi ogni esercizio io lo facevo per 30 secondi Poi cosa c'è? C'è un avviso temporale Che io ho impostato a 5 secondi Significa che a 5 secondi Dallo scadere del giro Quindi se il giro io l'avevo impostato a 30 secondi A 25 secondi Mi avvertiva che mancavano 5 secondi Per cambiare esercizio Ok? Io cambiavo esercizio Contavo 4 e lui suonava la campanella Perché ripartiva il giro da capo Ok? Quindi questa applicazione ha anche altre funzioni Ma in questo modo Giusto per spiegarti velocemente Come puoi utilizzarla In questo modo tu puoi decidere Che tutte quelle routine Che sono ripetitive Le studierai, le praticherai Per un tempo determinato Cioè anche detto Per un blocco di tempo In questo modo tu blocchi il tempo Delle tue sessioni In sottoblocchi più brevi Se tu puoi studiare solo 2 ore al giorno Vorrà dire che i workout Gli dedicherai, non lo so, mezz'ora Ok? Se tu hai 10 esercizi Dividi la mezz'ora 10 esercizi Saranno 3 minuti di esercizio Sto ipotizzando E con questa applicazione Quei 3 minuti di esercizio Puoi suddividere in sottoblocchi Per quanto tempo stare Su quel singolo esercizio Per poi cambiare Ok? Quindi faccio l'esempio Lo stick control sono 25 battute Decido che lo stick control Lo faccio per 25 minuti E dedico un minuto a ogni battuta In questo modo io imposto 25 giri Un minuto per ogni battuta 5 secondi il tempo di avvertimento Per il cambio giro Ok? Questo significa che Le ripetizioni che tu fai Di ogni singola battuta Non influiscono sul tempo Sulla durata dell'esercizio Perché aumentando il BPM La durata delle ripetizioni In termini di tempo Diminuisce Invece in questo modo cosa fai? Tu concentri lo sforzo Sia che sia a un BPM lento Che sia un BPM veloce Sempre per un minuto E poi cambi E ti sforzi per un minuto Quindi in questo modo Tu sfidi il tuo corpo A sforzi prolungati In un certo periodo di tempo E non più Siccome le ripetizioni Sono tantissime E diventano esercizi infiniti E poi la tua sessione Non basta mai In questo modo Riuscirai a progredire In maniera più efficace Un giorno dopo l'altro Perché bloccando il tempo Di ogni esercizio Tu lo farai solo ed esclusivamente Per quel minutaggio Dopodiché passerai al successivo Dopodiché passerai al successivo E così via In questo modo Se tu sei paziente Dedicherai il tempo necessario A ogni singolo esercizio E avrai la tua routine di studio Suddivisa nei blocchi Che a te servono In base alla quantità Di materie che devi studiare Nella tua sessione Ok Se vuoi avere ulteriori spiegazioni Scrivi sotto nei commenti E se pensi che questo video Ti sia stato utile E lo sarebbe anche per qualche Tuo collega o amico Segnalaglielo Condividilo nei tuoi social Aiutare le persone È una cosa che ci rende Molto soddisfatti e felici Per cui ti aspetto nel prossimo video Ciao da Ruggero Boxing Timer